Ciao! Eccoci con il consigliato video dei prodotti terminati del mese stiamo parlando dei terminati di marzo se volete vedere tutti i video che ho girato di questa tipologia vi metto il link sia qui sopra che giù nell'info box ormai è il mio balletto preferito prima di farvi vedere cosa ho finito e di dirvi come mi sono trovata proprio io fa un po' dei gossip che avete fatto per Pasqua? dove siete state? cosa? state? stati? parlo anche al maschile raccontatemi un po' cosa avete fatto per queste vacanze pasquali la mia vacanza pasquale si diciamo può racchiudere in un solo verbo voi lo sapete mangiare ho solo mangiato è stato un po' un mangin tour un mangin weekend ma ormai ve l'avevo detto io ve l'avevo anticipato sul video delle ciccionate che avrei solo mangiato infatti è stata così sono stata anche brava perché sono riuscita a nascondere il mio tesoro avevo un unico uovo quest'anno quindi mi è andata pure male e sono riuscita a trattenerlo quindi non l'ho diviso con nessuno lo so io di solito parlo di condivisione anzi condivido pure ma questa volta no sul cibo non si può condivide e sono stata brava perché ho aperto e assaggiato le uova di tutti e il mio non l'ho dato a nessuno non lo so mangiato solo io e questa cosa questo momento di egoismo mi ha resa felice comunque non vi voglio rubare altro tempo scrivetemi qui sotto cosa avete fatto ora però dopo aver parlato di cibo perché ormai lo sapete il cibo lo devo mettere ogni tanto così in random quindi ogni tanto io parlerò di cibo cibo ve lo devo fare in qualche video adesso lo faccio ogni tanto quindi siate pronte perché in altri video farò questa cosa comunque dopo aver parlato di cibo ora torniamo al fulcro della questione perché avrò parlato tipo per due minuti di cose inutili e niente andiamo a vedere cosa ho terminato i primi due prodotti che ho terminato sono due creme mani la prima è della tesori di oriente la profumazione orchidea della cina e la confezione da 50 ml l'altra invece è della leocrema è una crema mani nutriente intensiva all'interno ha burro di carité vitamina E e pantenolo e la confezione da 100 ml allora una mi è piaciuta e l'altra no quella che mi è piaciuta è quella della tesori di oriente perché è una crema mani molto profumata non è una crema mani curativa ossia se avete le mani troppo screpolate eccetera non ve la consiglio vi consiglio una neutrogena una neutrogina o una glisolid ma se siete alla ricerca di una crema da battaglia ecco per combattere la secchezza superficiale delle mani io ad esempio d'inverno le ho secchissime in questo periodo diciamo che riesco a gestirmela un po' meglio e questa tipologia di crema mi piace quindi ecco se siete come me che in questo periodo avete le mani più o meno decenti che insomma sono secche ma non troppo questa crema ve la consiglio mentre invece non mi sento assolutamente di consigliarvi questa dell'aleocrema di essere una crema mani nutriente intensiva non nutre e non intensifica nulla anzi è particolarmente fastidiosa al tatto non ve la so spiegare come sensazione ma non è un ticcia perché magari fosse un ticcia è oleosa ma un oleoso che non penetra quindi vi sentite le mani oleose ma non le sentite penetrare ecco io utilizzo anche ad esempio la neutrogena c'è a chi non piace utilizzarla proprio perché rimangono le mani un ticce però poi va a penetrare questa invece non si assorbe mai e soprattutto lascia proprio neanche l'unticce proprio l'oleosità se si può dire nelle mani quindi non ve la consiglio vi consiglio più una crema da battaglia del genere anzi della tesori di oriente siccome sono appassionata della tesori di oriente compro profumi a non finire avevo girato un video sui dupe dei profumi famosi ve lo metto sia qui sopra che giù nell'info box e ho deciso che a breve farò l'aggiornamento perché ho trovato altri profumi simpatici comunque torniamo a noi questa io ve la consiglio quest'altra invece proprio un altro prodotto terminato è questo latte detergente della Milmil è al tiglio e malve la confezione è gigante perché è da 500 ml infatti ci ho messo una vita per finirlo è di quelli nutrienti c'è scritto ed è purificante e idratante allora su questo latte detergente ho avuto opinioni discordanti ossia nel primo periodo di utilizzo mi è arrivata tipo a metà mi piaceva tantissimo e quindi se me l'aveste chiesto a metà vi avrei detto wow il latte detergente della vita non solo economico è buonissimo perché l'avevo trovato in offerta mi sembra d'acqua e sapone avevo preso anche il tonico il tonico non era malaccio ma adesso è arrivata da qui in giù quindi nella parte finale devo dire che non mi è piaciuto affatto sarà sicuramente un problema della mia pelle ma nell'ultimo periodo ogni volta che lo utilizzavo mi venivano delle bollicine sotto pelle poi lo smettevo se ne andavano lo riniziavo e mi tornavano quindi ho capito che era lui perché ho fatto diciamo le selezioni devo capire che cos'è e ho capito che era lui dire che non mi sono trovata bene con questo prodotto forse è possibile anche perché mi sono data anche una specifica è possibile che sia troppo grande la confezione e quindi sia passato troppo tempo per l'utilizzo cioè mi spiego meglio io abbia impiegato troppo tempo a finirlo quindi magari fino a che ero qui il prodotto all'interno era ancora buono poi è passato troppo tempo e per finirlo ecco non era più buono quindi è possibile che sia anche quello devo dire che ho provato altri prodotti di questo marchio e non sono male quindi insomma non mi sento di bocciare il marchio ma mi sento di bocciare proprio questo latte detergente fatemi sapere se voi l'avete utilizzato come vi siete trovati perché è possibile vi ripeto che sia una mia impressione proprio perché ci ho messo troppo tempo a finirlo il quarto prodotto terminato è questa base per unghie della Essence si chiama Studio Niles Base Fissante base fissante la confezione è da 10 ml non stiamo parlando di gel non stiamo parlando di semipermanente quindi questo asciuga l'aria ecco quindi è un altro discorso sono sempre patita per il semipermanente ecco questa fissa penso non mi si toglierà mai ma spesso e volentieri come vi consiglio sempre in tutti i video che faccio eccetera dove parlo di unghie dove parlo di semipermanente faccio riposare le mie unghie e quindi cosa faccio applico magari delle basi rinforzanti che vadano proprio ad aiutare le unghie che magari con il semipermanente si possono rovinare o indebolire e questa della Essence mi è piaciuta tantissimo tanto che le volte in cui non mettevo il semipermanente mettevo lei e sono riuscita a finirla in brevissimo tempo avevo comprato anche il top coat che mi sta piacendo un po' meno ma questa ecco ve la consiglio non so se ora il packaging sia uguale ma comunque ecco se la trovate quella della linea studio dovrebbe essere sì è veramente ottima altro prodotto terminato è questa maschera nera manca un pezzo perché qui si capisce quando le cose mi piacciono le taglio e infilo le dita cerco di utilizzarle al più non posso comunque è la famosissima maschera nera peel off questa è della Shields vi avevo girato una quick review su questa maschera ve la metto sia qui sopra che giù nell'info box dove facevo appunto vedere come funzionava e l'avevo presa su Amazon però sono andata in un negozio di cinesi quindi l'ho già ricomprata e l'ho trovata proprio lì costava qualche euro in più circa 2-3 euro in più però insomma ce l'avevo a portata di mano ho detto ok senza fare l'ordine su Amazon me la ricompro quindi io questa ve la straconsiglio ve la straconsiglio soprattutto dopo aver effettuato i vapori quindi anzi se volete il video sulla pulizia del viso lo facciamo insieme fa un po' schifo però lo facciamo insieme che ce prego ormai tanto siamo amiche e amici fatemelo sapere scrivetemelo qui sotto comunque dopo aver effettuato i vapori vado proprio ad applicarla ci mette un quei 30 minuti qui diceva quindi 20-30 minuti a volte anche 40 perché più ne mettete più faticate poi per farla asciugare più ne mettete più quando andate a tirare togliete tutto il toglibile quindi dopo aver effettuato i vapori è diciamo il momento migliore la cosa che vi consiglio però perché ho visto tanti video dove tante ragazze se la mettevano su tutta la faccia no io questo non ve lo consiglio andatelo a mettere solo nei punti dove avete reali problematiche quindi dove realmente avete punti neri perché in alcuni casi dove non ce li avete se andate a tirare andate a fare i danni voi quindi a questo non ve lo consiglio assolutamente io di solito lo metto nella zona T soprattutto qui e sul naso che sono i punti dove ho più punti neri e mi ci trovo benissimo quindi fatemi sapere ecco se volete facciamo la pulizia del viso insieme e se vi dovesse capitare prendetela perché è veramente top anzi vi metto anche il link del venditore dove l'avevo acquistata giù nell'info box momento denti che mi urlo momento denti scusate lo so perché urlo quando faccio momento denti comunque abbiamo terminato questi due dentifrici il primo è l'acqua fresh ormai la nostra Franci ci ha attaccato questa fissa per l'acqua fresh noi ne usciamo più Franci è colpa tua sappilo tu lo devi sapere e poi abbiamo terminato il nostro amatissimo colgate white siamo al momento deodoranti abbiamo terminato il Nivea Invisible for black and white questo è il fresh dice che è di limited edition per la fashion week di Milano eccetera eccetera la confezione da 150 ml a noi non è piaciuto per niente dico a noi perché anche Andrea non è piaciuto tanto che ce n'è ancora una cicinin dentro però ecco abbiamo deciso di buttarlo non ha una buona profumazione anche se c'è scritto fresh non ha nulla a che vedere con il fresco non rimane assolutamente qui dice che non lascia aloni devo dire non ha lasciato grandi aloni ma proprio perché comunque è come se non metteste niente è molto più buono questo ad esempio della Natura Amica questa è la Lume di Rocca non si vede molto questo poi ha degli ingredienti molto più buoni di quelli che è la Nivea questo lo trovo molto più persistente per quanto sia leggero anche questo mi piace molto di più non è finito poi ve ne parlerò nei prodotti terminati ma devo dire la verità mi piace molto più questo di questo della Nivea non so ecco è un po' una delusione pensavo che il deodorante fosse buono ma non lo riacquisterò siamo arrivati all'ultimo prodotto è questa crema viso della Clavier è un marchio francese era una collaborazione è la numero 19 ed è una crema da giorno la confezione è da 50 ml devo dire che il prodotto all'interno è veramente buono non è una di quelle creme è un ticce è una crema che quando l'andate a mettere si assorbe immediatamente però la sentite ecco vi lascio la pelle morbida è un buon prodotto devo dire quindi mi sento di promuoverla per questo ma mi sento di bocciarla per la confezione perché io volevo andare a prendere tutto questo popò di roba ma qui è tutta implastificata pensavo che il prodotto fosse direttamente all'interno del vetro invece no c'è tutta questa plastica non so la confezione è da 50 ml io non so se questa plastica contenga 50 ml di prodotto non lo voglio neanche sapere però ecco è una cosa che non mi è piaciuta voi direte ma che c'entra non lo so però ecco ve lo volevo dire però il prodotto all'interno in se per sé è davvero buono e se non ricordo male sì è anche certificata bio quindi se cercate una crema buona con ottimi ingredienti questa ve la consiglio ok video terminato io come al solito spero che questa tipologia di video vi piaccia e soprattutto vi sia utile fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti di cui vi ho parlato e come vi siete trovate soprattutto voglio sapere se avete provato questo e se come me all'inizio lo amavate e poi lo avete odiato fatemi sapere insomma se avete anche dei consigli voi da dare a me su alcuni prodotti a cui interagiamo perché ve lo dico sempre ma perché è la verità io adoro interagire con voi raccontatemi anche la vostra Pasqua comunque noi come al solito ci vediamo qui sul canale ogni lunedì e venerdì io vi mando un bacione grandissimo se vi va iscrivetevi e al prossimo video ciao